Walter Villa non ha bisogno di presentazioni, è stato un grandissimo campione, un grandissimo motociclista, ha vinto quattro titoli mondiali e ha dato molto lustro allo sport e al motociclismo italiano. Sono 11 anni che è scomparso ma è ancora nei nostri pensieri e noi del Motoclub abbiamo avuto l'idea di ricordarlo alcuni anni che stiamo organizzando questa festa tra motociclisti ed è un'iniziativa voluta dal Motoclub Ghirlandina che sta crescendo sempre di più. Quest'anno addirittura le giornate saranno due organizzate presso l'autodromo di Modena il 22 e il 23 di giugno. Saranno due giornate di sport, due giornate di gioia e di divertimento. Abbiamo pensato di prendere alcune iniziative, diverse iniziative. Abbiamo organizzato un moto raduno che inizierà la mattina di sabato, poi ci saranno delle prove libere in pista sia per moto moderne che per moto d'epoca, moto storiche. Ci saranno delle moto molto belle, ci saranno delle MW Agusta, ci saranno delle Benelli, ci saranno anche tanti amici importanti che hanno promesso di esserci. Ci sarà per esempio Gianfranco Bonera, vice campione del mondo della 500, ci sarà Graziano Rossi, anche lui campione della 500, papà di Valentino. Poi per chi ne avrà voglia ci sarà la possibilità di visitare il museo Panini e infine la serata abbiamo organizzato anche una grigliata tra amici. Quindi siete tutti invitati, ripeto le date 22 e 23 di giugno presso l'autodromo di Modena. Siete tutti invitati, motociclisti e amici di Walter.